E' online il bando per poter iscrivere il proprio cortometraggio all'edizione 2017 del Toco Film Festival, la rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed internazionali organizzati dall'Associazione Culturale Toco Film Festival di Sala Consilina per avvicinare produttori cinematografici ed il pubblico del Vallo di Diano a una realtà, quella dei nuovi talenti del cinema indipendente sperimentale, viva e interessante ma poco nota e mal distribuita. Il Toco Film Festival è da quattro anni una vetrina di promesse in ascesa. Per il centro storico di Sala Consilina, location del festival, sono passati attori e registi come Andrea Di Maria, Giuseppe Bonito e nell'ultima edizione i ragazzi del fenomeno Casa Surace. Il festival ritornerà nell'estate 2017 proiettando i cortometraggi che passeranno la fase di selezione e premiando il miglior cortometraggio, la migliore regia, il miglior corto d'animazione e il miglior corto live action. Quest'ultima categoria è anche una delle novità di quest'anno. Il live action è un particolare genere cinematografico tratto da fumetti e videogiochi sempre più in voga tra il pubblico giovanile. A Chiazzared, la location del festival, sita nel cuore del centro storico di Sala Consilina, tornerà brulicante di vita, di giovani registi, di sceneggiatori, scenografi e direttori della fotografia. Un'opportunità per i talent scout delle case di produzione e per tutti coloro che potranno ammirare una perla di un sud Italia troppo spesso dimenticato, assaporando nel calore dei costumi. Anche gli spettatori verranno resi partecipi con la possibilità di votare il premio del pubblico tramite moduli distribuiti prima di ogni proiezione. È possibile scaricare il bando dal sito ufficiale del festival all'indirizzo web www.tocofilmfestival.it. Per inviare il proprio corto e partecipare al festival c'è tempo fino al 1 giugno 2017.